Succede a Taranto. Taranto è una città che ha un'amministrazione fantasma, l'amministrazione Melucci, un'amministrazione che non è in grado di farsi rispettare, che riceve schiaffi da tutti, dalle varie ditte, dai vari enti che sfreggiano e stuprano le nostre strade, i nostri marciapiedi senza che l'amministrazione comunale reagisca, si faccia rispettare. Il borgo Umbertino, il centro di Taranto ma anche parecchi tratti di Viale Virgilio, anni or sono, furono disseminati da non meglio precisati, non meglio identificati tubi sistemati, allocati dall'acquedotto pugliese che dovevano ovviamente assolvere ad una funzione momentanea, temporanea e poi sarebbero stati rimossi appunto nel momento in cui si fossero completati i lavori realizzati dall'acquedotto pugliese. Così non è stato più e vedete che ormai purtroppo questi tubi sono diventati organici al manto stradale, fanno parte purtroppo dell'arredo urbano, sono stati conficcati alla Bellemeglio, fissati con del catrame e giacciono così ormai quasi sicuramente non verranno rimossi o chissà se e quando verranno rimossi. Guardate qui, addirittura qui fissati con del catrame. Pensate ai rischi che si corrono quando un anziano ma anche una persona non necessariamente anziana rischia di cadere, addirittura vedete da questo lato, da quest'altro lato, idem perché ho detto è tutta la città, tutto il borgo Umbertino che è appunto impestato, passatemi l'espressione, da questi tubi. Tubi che peraltro alcuni di questi tubi addirittura sono stati interrati. Guardate qui, è stato aperto il manto stradale e ora sono sotto la superficie del manto, sotto il manto stradale stesso. Vedete, giacciono qui sotto e poi non si è messo un po' di cemento, neanche di asfalto, perché questo è cemento. Ripeto, qui cemento. Fosse stata una cosa temporanea di qualche mese, di un anno massimo, avrei potuto comprendere, avremmo potuto comprendere, ma purtroppo ormai è diventata una situazione cronicizzata, una situazione stabilizzata. Fanno parte del manto stradale tarantino. Melucci! Melucci! Sindaco, ci sei? Assessore ai lavori pubblici, batti a giorno, ci sei? Se ci sei batti un colpo. Non girare sempre l'Italia e il mondo, sempre in maniera lecita, con i tuoi viaggi istituzionali. Butta il sangue, politicamente parlando, qui per risolvere questi problemi. E lo stesso lo dico a te, caro Gianni Azzaro, assessore al patrimonio. Non cadere dalle nuvole. Il patrimonio è di tua competenza, è la tua delega assessorile. Signori cari, ma quando cazzo dovete intervenire? Quando cazzo dovete intervenire? Vi rendete conto o no? Questa è Taranto. Dobbiamo vivere in questo scempio, nel pieno centro di Taranto, nel pieno borgo Umbertino. Signori, ve lo ripeto, con me, consigliere comunale, non avete e non avrete tregua, politicamente parlando, nel massimo rispetto istituzionale. Pretendo risposte e me le dovrete dare e dovrete darle ai cittadini. Il cittadino paga le tasse e non deve vivere in questo schifo. Capito? O lo capite, o lo capite lo stesso. Io non scherzo.